Ciao ragazzi, bentornati sulla mia scrivania. Eccomi alle prese con il Diamond Painting personalizzato che ho ricevuto dal sito artluna.it e che vi ho mostrato nel video precedente. Se volete realizzarlo anche voi, andate a leggere le informazioni nell'info box qui sotto. Troverete anche un codice sconto del 10% da usare sul sito artluna.it. Questo video dura più o meno 5 minuti, ma in realtà ho impiegato circa una settimana per completare questo quadro, come ho documentato giornalmente con delle foto su Instagram. Ora che ho finito di riempirlo di diamantini, non mi resta che passarci sopra il Mod Podge e incorniciarlo. Vi farò vedere il risultato sul mio Instagram, che vi ricordo è Cristina YouTube, scritto tutto attaccato e con il solito 3 al posto della E. Vi ringrazio in anticipo per i like che lascerete, fatemi sapere cosa ne pensate con un commento e niente, non mi resta che augurarvi buona visione. Ciao! 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 Ciao!